Anche musica G7 nella cornice barocca di Piazza Duomo, il concerto della fanfara della Polizia di Stato. Nell'ambito delle manifestazioni previste a Seracusa in occasione del G7 Agricoltura e Pesca, divinazione Expo 2024, giovedì 26 settembre alle 18, alla presenza del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare delle Foreste, l'Unionevole Francesco Lollobrigida, del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, la fanfare della Polizia di Stato otterrà un concerto nella suggestiva cornice barocca di Piazza Duomo in Ortigia. La fanfare della Polizia di Stato, formazione composta da 50 musicisti e diretta dal Maestro Massimiliano Profili, eseguirà brani del repertorio classico e moderno attraverso i quali da anni promuove la cultura musicale quale mezzo di diffusione dei valori della legalità. L'evento aperto al pubblico sarà presentato dal giornalista Salvo Larosa.